Musica Cari telespettatori, buonasera a tutti e benvenuti alla ventunesima puntata di 55 Sport. Buonasera anche a te Filippo Brusa. Buonasera Carolina, Carolina Angelis Malnati, bella sorridente come sempre. Grazie Carolina per essere sempre così bella. Questa sera pensa che parleremo di due sport in cui tu eccelli, il canottaggio a sedile fisso e il motociclismo. Ma presenta i nostri ospiti? Abbiamo qui con noi in studio oggi Marco Mugnani, il presidente riconfermato nazionale della Federazione del Canottaggio a Sedile Fisso. Presidente nazionale, ci terrei a sottolineare, nazionale. E poi abbiamo una giovanissima promessa della moto. Sì, Giusefin Bruno, buonasera Giusefin, ben trovata. Bene, ti vediamo con una maglietta bianca, molto bella, tanti marchi su questa maglia. Sì, sono i marchi del mio team e dei sponsor. Bene, parleremo quindi di motociclismo e di canottaggio a sedile fisso. Che cos'è il canottaggio a sedile fisso? Il canottaggio a sedile fisso è una disciplina diciamo tradizionale, poi nel tempo si è sviluppata, quindi diciamo ha due anime la federazione. C'è l'anima delle gare competitive, quindi abbiamo delle imbarcazioni a livello nazionale uguali per tutti. E poi c'è un'anima diciamo folcloristica, di rievocazione storica, culturale, locale, dove abbiamo nel territorio nazionale molte realtà. Sul lago Maggiore abbiamo perso un po' le lance che si facevano un tempo, praticamente sono le barche tipiche dei pescatori, un po' in tutti i laghi. Sulla sponda piemontese abbiamo i galeoni, fanno il 14 di agosto in genere una manifestazione. Poi via via nei vari laghi abbiamo le lucie sul lago di Como, i naet sul lago di Iseo, le bis sul lago di Garda, i gozzetti in Liguria e così via su tutta la costa, nelle varie marinerie, diciamo ogni località ha le sue specialità. Viene da Reno, giusto? Reno sì che è una frazione del comune di Leggiuno, che ha 22 società di canottaggio, che fanno le due discipline, olimpica e a sedile fisso. Sono due realtà molto ben radicate sul territorio e diciamo quasi tutti i comuni del Rivieraschi hanno una società che pratica l'attività di sedile fisso. Come hai iniziato a fare canottaggio? Come sempre, io sono un ragazzo del 59, quindi la mobilità era diversa rispetto a quello che hanno a disposizione i giovani al giorno d'oggi, quindi si cercava di fare l'attività più prossima all'abitazione. Quindi la scelta era o calcio, ho visto che Leggiuno è affacciato sul lago, il canottaggio, ho scelto il canottaggio. Sì, Leggiuno è grande terra anche per quanto riguarda il calcio, Gigi Riva, abbiamo dedicato una puntata a Gigi Riva a novembre proprio in occasione del suo compleanno. È giovanissima, Josephine Bruno, innanzitutto questo nome è francese, da dove viene Josephine? Gli piaceva il nome mio papà, quindi... Quindi non avete parenti in Francia? No, no, italianissimo. È una giovanissima promessa, appunto, e disputerà il campionato italiano di velocità, con la voglia un po' di battere tutti. Allora, innanzitutto parliamo del campionato, del tuo campionato, il campionato in cui mi... Allora, quest'anno parteciperò al CIV italiano con la Premoto 3, è il primo anno dove faccio questa categoria superiore, e sarà molto difficile e ci dovremmo impegnare molto. In questa categoria abbiamo tutti una moto 250 con motore Yamaha e le piste sono autodromi come il Mugello, Misano, Imola, Vallelunga. E beh, insomma, a tua età correre in questi... è rimasta impressionata, Carolina. Sì, sì, bravissimo, molto bravo, complimenti. Ecco, parliamo del tuo team MRT, di Fidenza. MRT 2R Moto. 2R Moto, e quindi in Emilia, quindi dovrei andare in Emilia spesso, tu sei di Varese. Sì. Parlaci della tua quotidianità, della tua vita, che cosa fai? Studi? Sì, studio, vado in terza media. Eh, appunto, come si svolge la tua giornata? Anche in questo periodo, legato al Covid, le scuole sono aperte? Sì, vado a scuola e poi mi alleno sempre per la moto. Quindi, insomma, vuoi andare in MotoGP, insomma? Eh, magari, è il mio sogno. Il sogno... e beh, insomma... a che età hai iniziato? A cinque anni. A cinque anni? Come mai? Perché un giorno mio papà mi aveva portato in moto e mi è già piaciuto dall'inizio. Ecco, quindi tuo papà è un po' un centauro, eh? Sì. Salutiamolo, come si chiama? Filippo Bruno. Ah, Filippo Bruno, io mi chiamo Filippo Brusa, siamo quasi omonomi, mancano solo le ultime due lettere, Bruno Brusa. Bene, alzate le mani, per favore. Ecco, anche lei, signorina, allora avete... lei è al callo del vogatore, sicuramente? Sì, un po' nascosto, ma c'è. Eh, invece lei è al callo del motociclista. Ecco, fai vedere bene le mani, ecco. Quante ore vai in moto? È ogni weekend, vado in moto e più o meno sono sei turni da mezz'ora e questo. Sei turni da mezz'ora? Sì, più o meno. La stagione quando si aprirà? Ad aprile, con la prima gara che si terrà al Mugello, che pista non l'ho mai vista. Eh beh, insomma, il Mugello è... conosce anche lei il Mugello, eh? Eh, famoso. Bene, bene. Ecco, parliamo invece dei suoi programmi. Allora, il bilancio del suo primo mandato, 2017-2021, è stato rieletto. E poi, quali sono le prospettive della federazione? Cerchiamo anche di parlare con i nostri telespettatori per avvicinarli a questo mondo interessante. Sì, è un mondo interessante perché è un mondo familiare, dove alla fine della giornata si è stanchi ma si è tutti contenti, come se si fossero andati a fare una scampagnata tra amici. Il bilancio di questi quattro anni, dal mio punto di vista, è lusinghiero perché siamo riusciti a reinserire alcune realtà che si erano allontanate dalla federazione negli anni passati. Abbiamo acquisito anche nuove realtà, soprattutto nel centro-sud Italia, Marche, Abruzzo, Puglia, ultimamente è entrata la Sicilia, sta entrando Livorno. Quindi, diciamo, come attività è stata positiva. Il numero degli atleti è stato in costante crescita. Chiaramente il 2020, purtroppo, è stato un anno tragico per tutti perché con la pandemia ha praticamente bloccato alcune attività, soprattutto quelle amatoriali e quelle, diciamo, tradizionali perché non era possibile fare questo tipo di attività. stiamo sviluppando anche un'attività internazionale che è uno scambio culturale più che altro tra l'Italia e le altre nazioni dove gli stranieri, quando vengono da noi, utilizzano le nostre imbarcazioni e noi, quando andiamo all'estero, usiamo le loro imbarcazioni. Quindi c'è anche questo tipo di conoscenza nello scambio. Il programma del futuro, chiaramente, è cercare di continuare, di potenziare, di allargare, di migliorare l'attività remiera italiana sempre nel sedile fisso. Cercare di fare una rete con tutte le attività tradizionali dell'Italia. Abbiamo molte realtà che attualmente operano, diciamo, non all'interno della nostra federazione, vorremmo veramente ricomprenderle tutte. Quindi, diciamo, l'obiettivo duplice che ci poniamo per questo quadriennio è quello di potenziare e migliorare l'attività nazionale e sviluppare, fare rete con l'attività tradizionale. Bene, seguiremo, seguiremo da vicino e seguiremo da vicino anche Gioi, perché ti chiamano così. Come mai questo soprannome? Non è proprio il diminutivo di Giosefina. No, mi piace, mi piace molto di più di Giosefina. Ti piace molto di più di Giosefina e rimanda un po' alla Gioi. La tua gioia è andare in moto, però, insomma, leggi, parlaci anche un po' della tua vita, di quello che fai. Mi piace andare in bicicletta, fare i salti con la bici. Anche fare i salti con la bici? E allora devi portarla. Oggi, magari nei nostri studi avresti potuto, insomma, incantarci con qualche acrobazia. In moto le fai l'acrobazia? Qualche impennatina. Qualche impennata. Bene, allora ti seguiamo, ti seguiremo sicuramente al Mugello. L'anno scorso la pandemia quanto ha influito, diciamo, sulla vostra attività? Ecco, appunto, parlaci anche. Tutte le gare erano a porco chiuso, quindi ci potevano venire solo a vedere i genitori, quattro persone per pilota. e non era come prima del Covid e avevamo paura che il campionato non iniziava, quindi siamo rimasti indietro un po' con gli allenamenti e la moto. E adesso cosa ti aspetti? Poi, c'è ancora, siamo in piena pandemia, c'è la terza ondata, insomma, da qui a aprile potrebbero succedere tante cose, però è fiducia che si riprenda. Speriamo. Incrociamo le dita. Bene, incrociamo le dita. Falle un augurio? Sì, ma è molto promettente, Giosefine si vede, quindi le auguro una carriera brillante come quella che si merita. Sei proprio varesina, varesina? Sì. Beh, varesina puro sangue, ti facciamo il migliore in bocca al lupo. Grazie. E com'è la competitività con i maschietti? Eh, quest'anno sarà molto molto dura, perché mi sembra che ci sono solo maschi. Solo maschi, sei l'unica femmina. Sì, non ci preoccupare. Carolina, l'unica femmina. L'unica femmina, ma noi abbiamo una marcia in più. Avete una marcia in più. Qual è il tuo segreto in moto? Non usare il cervello e aprire sempre. Ovviamente bisogna usare la testa, perché sennò... Sì, sì, usate la testa, però anche un pizzico di incoscienza. Sì, esatto. Marco, insomma, il segreto invece per essere riconfermato per due mandati alla guida della Federazione Italiana del Canottaggio a Sedile Fisso qual è? Penso che, come in tutte le cose, sia quello di operare correttamente, onestamente, dando il massimo di se stessi. Poi, come sempre, si può dare di più, però l'importante è essere a posto con se stessi, avendo cercato di fare il massimo possibile. Dare il massimo di se stessi, Carolina. E questa è l'ultima puntata di 55 Sport, però la prossima settimana incomincerà un nuovo format. Sì. Come si chiamerà? Dato che noi siamo due vincenti, non poteva che chiamarsi vincere la trasmissione. E quindi i nostri attuali ospiti potrebbero essere ospiti nelle prossime puntate. Esatto. Inviteremo ancora Giusefin, Giusefin Bruno, Joy, subito dopo il Mugello ti invitiamo qua e porterai qualche coppa, speriamo. Speriamo. E inviteremo anche alla ripresa, un po' quando è che riprenderà la stagione Remiera? La prima gara nella nostra zona sarà il 25 aprile a D'Angera. Bene. Quindi saremo a D'Angera a seguire Marco Mugnani, il suo movimento Remiero, ricordiamo, presidente nazionale della Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso. E seguiremo da vicino anche la giovane promessa del motociclismo italiano, unica femmina fra tanti maschi. Ti auguriamo il meglio della vita, Giusefin Bruno, detta Joy. Carolina, a te per la chiusura. Bene, ringraziamo Marco Mugnani, grazie mille, presidente, grazie Giusefin Bruno. Grazie a voi. E' l'ultima puntata di 55 Sport, ma ci vediamo settimana prossima con me e Filippo Brusa con vincere alle 20.30 su Rete55. Arrivederci. Grazie a voi.